come dicevo prima è arrivato il momento che tanto avete aspettato ciò che sarà importante sarà effettivamente che la tavola di casa vostra sia come questo altare no spoglia per poter accogliere che fa la mamma viene rotto qualche cosa che ci avevate prima viene fatto qualcosa di nuovo ci sarà un nuovo andrea una nuova chiara un nuovo alessandro visto ama parlando ma soprattutto per le coppie questo sta in silenzio io andrea accolgo te chiara come mia sposa con la grazia di cristo prometto di esserti fedele sempre nella gioia nel dolore nella salute nella malattia di amarti e non arti tutti i giorni della mia vita amare significa stare in silenzio poter ascoltare il proprio coniuge occorre sapere accogliere ciò che effettivamente il signore vi potrà dare donare ancora affidiamo la vostra vita il vostro dialogo il vostro accogliere effettivamente queste novità a questa comunità qui davanti è anche quella che troverete una coppia non è mai chiusa una tavola imbandita significa pronta ad accogliere chi arriverà la vostra vita è sempre stata un'acoglionale quella che non ciò si tratta for a vivere è sempre stata un'acoglionale è sempre che di origini e sempre